Una special ragazzi, guarda un po' con chi sto, guarda un po', una bionda, una mora che pedalano, pedalano, ma queste sì che stiamo, no? Quelle sagnone che stanno sempre davanti al pc, vero Anna? È bellissimo, bellissima giornata, rimango con loro, rimango con loro. Allora, vi saluto, me ne vado lì sopra, a quella montagna, giro breve ma in compagnia, meglio di niente. Ciao, ciao. Saluti. Salo. Vi saluto ragazze, buona passeggiata, buon giro. Grazie alla costa mia. A voi. Ecco nello sfondo le due mammelle, poi le vediamo bene. Popinto di Llamagnolo, dietro questa montagna qui che è Llamagnola, il Trasci va verso l'Aquila, qua non siete più niente. Ripetitori, Piani, Valentini, a Scatafascio e giù la Madonna dove niente. Le ragazze non sono venute perché non avevano le biciclette adatte. Dei ripetitori, dovessi vedere bene il velino con la sua maestrosità. Di giù c'è Maiano, Cappelle questo più vicino, Scurcola, le montagne d'agosto, Piani di Valentini. Non scendo qua perché non sto con la mia bicicletta ragazzi, sto con una bicicletta gentilmente prestatemi da un caro amico, carissimo amico. Non è questo il momento di comprarsi le biciclette, di rifarsi la bicicletta nuova. Settembre-Ottobre vediamo, vi faccio vedere, antennate alla polica, qua siamo sul Monte Cimarano, questo si chiama Monte Cimarano. Ecco lì giù Antrosano, Antrosano vecchio, dove fanno il sentiero del gusto. Quello lì grande è il deposito merci, come si chiamano questi merci di scambio, le nuove cose che l'hanno inaugurato 7-8 volte ma ancora non funziona. Ci stanno dentro la roba per l'Aquila, quello che hanno mandato per aiutare i terremotali dell'Aquila. In fondo sono le cavi di Castelnuovo, Alba Fucent sul Cucuzzolo, ecco qui giù la pezzana, ecco la piana, lista forse meglio degli altri giorni. Vabbè scendo, io voglio scendere qui, ma scendo in una parte un po' meno complicata, non è biammortizzata questa che ho. Guarda che cardi, che fiori, il calore predominante dell'estate, questo viola, favoloso, chissà se si vede, cardi stupendi. Il fuscino esce alla Texas, quello lì in fondo del luco, lì dove è la montagna di Trasacco. Vieni, 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 io voglio passare, la voglio fare, vai, ah che figata, ecco è Medianz, come stai, ben rivisto, un po' affaticato, eh? Eh che fighetto, eh, eh che fighetto, prima stavo con le ragazze, e ora con i ragazzi, ah ah ah, gli incontri che si fanno alla Madonna. Tutto bene, sì? Va bene, va, lo segui, stai bene? Eccomi qua, la curva delle castagne, la chiamiamo, da dove si esce, da dove comincia il percorso attrezzato, che ormai ve lo faccio imparare a memoria, fin quando non direi, basta, non farcelo vedere più, ecco qui, dove inizia il percorso del Salviano. Parco, percorso pedonale del Monte Sirente Merino, bene? Ok, sono le due e mezza del pomeriggio, Allora, arrivederci nella riserva, e voilà, guarda, è finito, ci siamo qui altri, arrivederci.